Forza ragazzi, domenica ci siamo anche noi, scrivono i piccoli atleti della polisportiva Sacra Famiglia. Nella struttura di Viale Advero, su Blu della Torres, sono tornati da ieri ad allenarsi in vista dell'impegno clou della stagione. Quello di domenica contro la Casertana, una gara che varrebbe l'allungo sulla prima inseguitrice, a meno tre punti le altre ipotesi di risultato. Vorrebbero dire finale al Cardiopalma. Non certo la situazione di relativa serenità, che fino a qualche settimana fa era corroborata da un vantaggio di sette lunghezze sperperato e a cui poco vale appellarsi ora. Ora è tempo di stringersi intorno alla squadra e lo chiede anche la società, con il direttore Vittorio Tossi. Alla città facciamo l'appello con la società e col presidente in primis che tutti siamo vicini a noi, siamo presenti domenica in gran numero. I prezzi sono popolari, le curve sono a 5 euro, le tribune a 10 e in più tutti i ragazzi fino a 18 anni non pagheranno il biglietto. Inoltre abbiamo stabilito che tutte le scuole calcio con i propri allenatori, se presentano le liste tramite la segreteria, avranno l'ingresso gratis al campo. Sono già tantissime le scuole calcio che hanno aderito all'iniziativa e saranno presenti allo stadio. Oggi quest'ora è effettuato un sopralluogo nella curva sud dove saranno sistemati anche circa 200 tifosi ospiti. In attesa di poter calcare l'erbetta del Val Nisanna, gli uomini di Mister Baci si allenano sulla terra battuta. Al rientro si sono visti con gli altri migoni e carboni in fase di recupero. Domenica sarà disponibile anche il secondo esterno di ruolo, l'ISAI. Non solo squalifica infortuni però, alla base di un filotto di risultati e prestazioni non all'altezza. Negli ultimi tre mesi non ci alleniamo in un campo grande, abbiamo anche le nostre difficoltà. nel creare quel tipo di gioco che avevamo all'inizio. È arrivata in un momento determinante questa partita per quanto riguarda tutto il percorso della società e della squadra. Domenica contro la Casertana si giocherà con il lutto al braccio. Nei giorni scorsi se ne è andato 82 anni Marzio Lepri, indimenticato capitano della Torres degli anni 50 e 60. E ancora oggi il più grande marcatore di tutti i tempi della storia rosso-blu.